Siamo con Francesco Rizzo, coordinatore provinciale di Taranto dell'USB. Parliamo della situazione Arcelor Mittal, la dichiarazione di messa in cassa integrazione di 1.400 unità lavorative. È già una stranezza delle convocazioni immediate appunto delle rappresentanze sindacali, proprio immediatamente, successivamente a questa dichiarazione, quindi un'accelerata e poi si decelera perché poi tra l'ultimo incontro e quello diciamo successivo sono intercorsi, intercorreranno circa dieci giorni. Parliamo del nuovo incontro del 20 di giugno. Un fulmine a ciel sereno quello della cassa integrazione. Forse Arcelor Mittal ha gettato la maschera per chi avesse ancora dubbi. Sì, diciamo che ci risulta molto strano per tutta una serie di aspetti il fatto che a sei mesi dell'ingresso di Arcelor Mittal si dichiari lo stato di crisi con la cassa integrazione, con ricorsa alla cassa integrazione, per una serie di fattori. Il primo fattore è che Arcelor Mittal ha acquisito Ilva pochi mesi fa, una società che fa una programmazione fino al 2023, quindi con la sottoscrizione di un contratto e di un accordo sindacale, che non riesce a guardare cosa succede ai sei mesi successivi. Io l'ho ribadito a Roma a Confindustria durante l'incontro che abbiamo avuto. Diciamo che è strano perché Arcelor, il primo produttore a livello mondiale di acciaio, non abbia avuto la capacità di capire che ci poteva essere di lì a breve, quindi a pochi mesi dal suo ingresso, la possibilità anche di ricorrere alla Cigo. Fatto quanto mai strano, perché poi se facciamo un'analisi di quello che è successo in questi mesi, si parte dalla dichiarazione dell'immunità penale revocata da parte del governo, con scadenza se non sbaglio 30 agosto di quest'anno, la riapertura dei termini del riesame aglio. Noi che vinciamo l'articolo 28... Arcelor Mittal messa all'angolo, alle strette. E quindi la possibilità eventuale di far reintegrare altri lavoratori sugli 8002 e anche l'ultimo tassello che sono le 100, circa 100 assunzioni che mancano all'applicazione dell'accordo che voglio ricordare prevedeva 10.700 lavoratori assunti a primo di gennaio all'interno del gruppo di Arcelor. E ad oggi ne mancano un centinaio che non sono ancora assunti. Ecco, il fatto che si spari una cassa integrazione, cada in un momento, come dire, di questo tipo con Arcelor in difficoltà, a me onestamente glielo ho detto, è sembrato quasi il tentativo di andare a distogliere la situazione, di dimostrare i moscoli, di dire, vabbè, mi infastidite e io reagisco in questa maniera. Ok Rizzo, ora passiamo alle responsabilità del governo. Penso che attendiate una convocazione da parte del governo, da parte di Di Maio. Di Maio ha preso dei precisi impegni relativamente ad Arcelor Mittal, al momento proprio dell'insediamento di Arcelor Mittal. Ora bisognerà dare risposte per mantenere quei patti. Sì, in tutta questa situazione c'è una delle tante stranezze. Nell'accordo sottoscritto al Ministero a settembre era previsto che ci fosse tutta una fase di monitoraggio a livello istituzionale, a livello ministeriale. Noi abbiamo chiesto più volte al Ministero negli scorsi mesi e abbiamo segnalato, guarda che il trimestre è scaduto, ci dovresti convocare perché dovremmo fare l'analisi di quanto sta succedendo. Ad oggi la convocazione non è arrivata. Io mi aspetto una convocazione prima della scadenza dei termini della Cassa Integrazione, della richiesta di Cassa Integrazione che ha fatto Arcelor Mittal. Perché il governo su sta roba ci deve mettere le mani. Io lo dico, non è accettabile perché a un certo punto Arcelor firma un accordo, viola quell'accordo perché non rispetta i criteri di assunzione previsti all'interno di quell'accordo, non lo dico io, lo dice il giudice, non fa le 100 assunzioni mancanti e a un certo punto noi dovremmo avere la possibilità come sindacato di far notare al Ministro che ci sono tutta una serie di irregolarità dal nostro punto di vista o di contraddizioni in questa storia e se l'Italia è un paese serio il Ministero su sta cosa ci deve mettere le mani. A me è piaciuto di mai quando l'altro giorno ha detto che le multinazionali estere la devono smettere di venire qua e pensare che l'Italia è terra di conquista e possono fare quello che vogliono. Però il problema qual è? Adesso sulla questione Arcelor il Ministro faccia una omograzione, mettiamo sul piatto tutte le questioni e il Ministro deve prendere una posizione netta perché non è accettabile, lo dico, fare promesse di investimenti per 2,4 miliardi di euro e poi scoprire dopo sei mesi che ti mando in cassa integrazione 1.400 persone. Rizzo un'ultima domanda un po' cattiva, cosa pensa che accadrà? Le altre sigle sindacali firmeranno l'accordo per la cassa integrazione? Devo rispondere sinceramente? Ebbè, a domanda sincera, risposta sincera. Allora, una previsione. Dico come, ecco, facciamo una previsione. Abbiamo notato che ci sono stati tre incontri, uno dietro l'altro in uno spazio di cinque giorni, quindi, cioè, anche la comunicazione per come è stata data è stata particolare. Tutti abbiamo detto no assolutamente, non stiamo a discutere sulla cassa. Io so quello che ho detto io a Roma e a Roma abbiamo preso una posizione, abbiamo detto ritirate la cassa e sediamoci, troviamo una soluzione per i lavoratori esclusi ingiustamente, altrimenti noi staremo a chiedere, noi ritireremo la firma dell'accordo e chiederemo al Ministero l'annullamento del contratto per inetambienza da parte di Mittal. A un certo punto mi viene strano pensare che tra l'ultimo incontro e l'altro, che è fissato per giorno 20, passano dieci giorni. In questi dieci giorni avviene uno sciopero nazionale di Finfiamo e Quim sul contratto metameccanico, che avviene domani, quindi venerdì 14. Che cosa potrebbe succedere il 20? Secondo me qualcuno firma. Firma con numeri minori, quindi non 1.400, magari saranno, non lo so, 700, 800, 1.000 e magari chiedendo l'integrazione a quei lavoratori, perché sono lavoratori che se andrebbero in cassa integrazione percepirebbero sia e no 800 euro. Quindi non vorrei, come dire, che a un certo punto stiamo nella condizione in cui ci stiamo prendendo in giro. Si è già deciso da parte di alcune forze sindacali di sottoscrivere all'accordo e stiamo facendo un po' di melina magari per alzare i numeri dello sciopero del 14. Che dire, ci congediamo qui da Francesco Rizzo, è un'espressione che va molto di moda in questo periodo. Chi vivrà, vedrà.